I lavori su Galatro riguarderanno la riduzione del rischio di dissestro idrogeologico di alcune abitazioni che sono state costruite in epoche diverse e che negli ultimi anni, a seguito di violenti nubi fragili, hanno subito minacce di crolli. Il sindaco di Galatro, Carmelo Panetta, ha dichiarato di sperare finalmente con questi lavori di essere riuscito ad avviare la soluzione del problema relativa all'erosione del suolo che negli ultimi anni si è riproposto in termini di estrema urgenza. Ha poi precisato e tenuto conto di come i lavori significheranno anche un impegno e che quindi porteranno occupazione per diversi operai. Insomma, una boccata d'ossigeno per il paese, nonostante l'iter da seguire per l'avvio dei lavori, non sia stato molto semplice. Infatti sono stati fatti studi di lievi geologici e solo nella settimana prossima avranno inizio questi tanto attesi lavori. Anche il PAI, il Piano Assetto Geologico, aveva dichiarato le zone ad alto rischio geologico, soprattutto in seguito ai forti eventi alluvionali che hanno interessato la zona. Così il Sindaco, dopo aver firmato il verbale di cantierabilità con l'impresa PMP Costruzioni di Asti, attende solo l'inizio dei lavori, che saranno fatti in tre zone del paese. Tra gli interventi è anche la messa a sicurezza della collina, che minaccia di franare sulle abitazioni sottostanti, mentre un altro lavoro riguarderà la messa in sicurezza delle acque, dove è previsto il potenziamento del muro di protezione.